Il lavoro decide il futuro. La CGL verso il 17esimo congresso nazionale, programmato dal 6 all'8 maggio prossimi, che nello slogan cognato ha puntato tutto il percorso che le delegazioni regionali e provinciali di tutto lo stivale stanno attraversando per arrivare all'appuntamento di maggio, con proposte lamentele, situazioni di disagio, precarietà e disoccupazione ancora in attesa di ricevere delle risposte. GGL Brindisi, che vivrà il suo congresso provinciale i prossimi 4 e 5 marzo, in questi giorni sta organizzando centinaia di assemblee di base programmate dalle categorie dei lavoratori e da quelle dei pensionati. Noi pensiamo che sia prioritario ormai intervenire sia sul lavoro, quindi rimettere il lavoro al centro, perché dal lavoro dipende il futuro di tutti i nostri giovani, dei nostri disoccupati, di tutta la gente che è rimasta senza lavoro, delle donne, dei migranti, quindi dal lavoro riparte realmente la ripresa economica. Quindi creare lavoro, crearlo chiaramente con una grossa parte fatta dalla parte pubblica, chiaramente, quindi rafforzando tutto il pubblico impiego, che è la struttura portante poi delle attività e soprattutto poi prioritariamente intervenendo su un sistema di welfare che in questi ultimi anni è regredito tantissimo e non consente di offrire risposte eque su tutto il territorio nazionale. E proprio contro le disuguaglianze tra i cittadini che vivono in condizioni di gravi disagi economici, alcuni privilegiati che nonostante la crisi hanno aumentato il proprio benessere, CGL Puglia, in occasione dell'avvio del percorso congressuale, ha aperto una petizione che chiede a Regione, Provincia e Comuni pugliesi lo stop alle retribuzioni d'oro di manager, amministratori e dirigenti. Purtroppo le ingiustizie e le disuguaglianze sono aumentate, c'è un divario fortissimo sul piano economico e sociale tra la gran parte della popolazione e quel 10% di famiglie che invece nella crisi sono anche diventate sempre più ricche. Servono risposte concrete e quindi nell'ambito della famosa spesa pubblica noi miriamo in particolare a creare veramente degli interventi che vadano ad incidere su tutte quelle sacche di consulenze inutili e soprattutto ricreando veramente un sistema equilibrato per quanto riguarda le retribuzioni. Basta con queste retribuzioni d'oro di manager, dirigenti che superano lì gran lunga quella dei dipendenti e quindi abbiamo fatto partire questa petizione popolare rivolta a Regione Puglia, Comuni e Provincia della stessa territorio pugliese che oltretutto sta anche avendo l'attenzione delle altre regioni e questo ci fa piacere. Invitiamo tutti a sottoscriverla perché sono richieste forti di intervento e di trasparenza parole chiave per riuscire anche a far recuperare a tutte le cittadine e cittadine pugliesi quella fiducia e quella attenzione che serve dare alla parte politica che deve prendersi il carico del cambiamento. La petizione potrà essere sottoscritta presso ogni sede della CGL oppure online sulla piattaforma firmiamo.it al link firmiamo.it slash un tetto a stipendi manager pubblici. Le firme raccolte saranno consegnate in occasione del congresso regionale in programma il prossimo 27 marzo.